L'esecuzione da parte dei provveditori del comune della fiera di Campomazzo avvenne secondo il progetto di Perini. Perini poi morì nel 731, mentre Scivone e Maffei davano le stampe e l'avranno illustrata che usciranno in 1932. Censurò il nome, l'adamnazza memoria totale per il povero Perini, salvo poi sentirsi le reprimende del provveditori, che dicono, ma scusami, è stato Perini. Ha detto, sì, era uno storiografo, non disse neanche che era architetto, pur di non ammettere, ecco, nonostante la morte.